Il Presidente ha un rapporto sullo stato dell'economia imperiese dalla pandemia fino alla guerra in corso. L'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso di analisi dati. Quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere anche il Centro Studi di Genova. Abbiamo il Dottor Franceschini che ci esporrà la situazione analizzando proprio il nostro territorio. Lo vogliamo fare ogni anno e in abbinamento a questa analisi del territorio abbiamo anche deciso di premiare delle aziende virtuose attraverso l'analisi dei loro bilanci. Sono alcune delle aziende perché altre sono state premiate l'anno scorso e anche in futuro andremo avanti con le premiazioni. Il simbolo che emerge è il fatto che il nostro territorio, fatto di piccole e medie aziende, sia comunque un territorio di aziende sane e virtuose. Una fotografia, un'analisi dell'andamento dell'economia imperiese nell'ultimo anno. Sì, l'economia imperiese sta soffrendo un po' di tutti quegli shock che anche a livello nazionale sono sulla bocca di tutti. Il principale attualmente è quello dei rincari energetici, per cui le aziende subiscono tutta una serie di rialzi dei propri costi di produzione dovuto a questi rincari. Se pensiamo ad alcuni dei settori principali, quale è il territorio imperiese, la metalmeccanica, l'alimentare, il turismo, tutti questi settori hanno visto i propri costi di produzione, i propri costi di impresa triplicare o raddoppiare. La cosa più che altro che in prospettiva può presentare uno scenario difficile è il fatto che tutti questi rincari finora sono stati assorbiti, sono stati affrontati soltanto per la metà. Perché il grosso di questi rialzi dei prezzi del gas che poi si riflette su tutta un'altra serie di rialzi andrà a colpire il periodo settembre-dicembre. Per cui in prospettiva, anche come a livello regionale, le nostre indagini sul clima di fiducia delle imprese vedono un calo nel prossimo trimestre della fiducia su produzione e ordini. Per cui un ultimo trimestre del 2022 che sarà difficile per le aziende e temiamo anche un primo trimestre del 2023. Dello stato di salute delle imprese imperiesi con particolare riferimento ai pagamenti. Assolutamente d'accordo. Intanto buonasera a tutti. Allora, oggi presenteremo in accordo con Fiduosti Imperia per il secondo anno consecutivo, visto il successo dell'anno precedente e il gradimento dell'anno precedente. Presenteremo questa analisi che noi facciamo, aggiornata al Q322, quindi vuol dire settembre di quest'anno, quindi recentissima, dove abbiamo analizzato i pagamenti delle aziende italiane e poi ci siamo focalizzati sulle aziende della provincia d'Imperia. Quello che si evince è che rispetto alla media nazionale le aziende in Liguria in generale sono un po' meno puntuali. Parliamo di un 35% di aziende verso il 40% o medio dell'Italia, ma all'interno della Liguria vediamo invece come le aziende della provincia d'Imperia performino meglio di quelle del resto della Liguria, con una percentuale che, se non ricordo male, è intorno al 37%. Tra le altre cose, avendo anche una percentuale di cattivi pagatori, quindi di aziende che pagano con ritardi superiore a 30 giorni, inferiore a quella della media della Liguria. In particolare poi ci siamo concentrati anche sul confrontare le aziende di Imperia con le aziende associate a Confindustria Imperia, visto che siamo qui a casa loro, e si evince che il profilo di pagamento delle aziende associate, da una parte vede una piccola flessione sui puntuali, che sono il 30% contro i 37% che abbiamo detto prima, ma sono tantissimi in più, c'è un picco decisamente notevole del 60% di aziende che hanno invece un pagamento entro i 30 giorni, quindi comunque una quasi puntualità. L'analisi continua poi andando a vedere un po' il tessuto imprenditoriale, quindi come sono fatte le aziende. Notiamo appunto che il tessuto imprenditoriale imperiese è un tessuto fatto di aziende mediamente piccole, quindi il 70% delle aziende ha meno di due dipendenti e fondamentalmente è caratterizzato dalla forma legale dell'impresa individuale, mentre le associate di Confindustria per il 70% quasi sono società di capitali, quindi sicuramente un dimensionamento differente. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è il confronto su tre parametri che sono diventati ultimamente molto fashion, che sono lo score di internazionalizzazione, quindi quanto le aziende sono propense a internazionalizzarsi, quanto a digitalizzarsi e quanto ad innovare. Bene, le aziende di Imperia sono più o meno allineate con il resto d'Italia, quindi una scarsa propensione in ognuno di questi comparti, ma analizzando invece le aziende associate a Confindustria Imperia, invece troviamo dei risultati estremamente opposti, quindi un'alta propensione all'internazionalizzazione, un'alta propensione all'innovazione, un'alta propensione alla digitalizzazione. Questo è abbastanza normale perché sono aziende più strutturate, però non è detto che questo avvenga in automatico perché un'azienda è strutturata o meno. Concluderemo poi il nostro intervento premiando una ventina di eccellenze nel territorio che sono per noi le aziende con la massima affidabilità e che adottano comportamenti verso i propri fornitori corretti in termini di pagamento.